Che dicembre sia stato il sugello di un turismo che in Umbria in genere, a Gubbio in particolare, sta tornando a cifre doppie con il più davanti, lo si era ormai ampiamente capito e detto. I numeri ufficiali saranno resi noti dallo IAT solo lunedì prossimo, terminato il weekend dell'Epifania, quando tutti gli albergatori avranno consegnato i dati, ma l'assessore al turismo, Nello Fiorucci, non teme smentite nel dire che dicembre 2017 avrà percentuali bulgare in salita rispetto al 2016, vessato dalla crisi sismica, ma soprattutto, e questo è quello che conta, avrà incrementi a doppia cifra anche rispetto al già ottimo dicembre 2015. Ha funzionato tutto, dice, dalla squadra di Gubbio che si è messa al lavoro coinvolgendo istituzioni, private ed associazioni, alla promozione della regione nei luoghi e nei modi azzeccati. L'albero di Gubbio è stato il benchmark del Natale in Umbria, non meno della tradizione del presepa d'assisi. Il resto dell'offerta turistica, fatta di ruota panoramica, mercatino, pista pattinaggio, casa di Babbo Natale ed altro, sono stati apprezzati corredi. A confermare i dati positivi ci sono quelli relativi agli ingressi nei musei gestiti dalla Gubbio Cultura e Multiservizi, ovvero Museo Civico di Palazzo dei Consoli, Museo Multimediale della Festa dei Ceri, Museo della Civiltà Contadina e Chiesa di San Francesco della Pace. Sono stati 5.312 coloro che nel solo mese di dicembre 2017 hanno marcato la soglia di questi luoghi con un incremento del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con 4.036 visitatori e un incremento del 58% rispetto al dicembre 2016, è il Museo Civico di Palazzo dei Consoli a registrare il dato migliore determinato anche dal richiamo della mostra antichi strumenti di tortura e pena di morte, oltre che dalle opportunità di visita offerte da un orario di apertura ampliato per l'intero periodo. A tutto questo ora si aggiunge quello che potrà avvenire dall'ultimo weekend festivo, quello dell'Epifania, che a Gubbio, come in tante altre parti d'Italia, è connotato in termini di appuntamenti dalla simpatica Befana che scende dal cielo a cavallo della sua scopa, ma che in questa città, rispetto ad altre, compie, complici i vigili del fuoco locali, un'evoluzione da brivido, scendendo dalla ragguardevole altezza della torre di Palazzo dei Consoli. Appuntamento con il naso all'insù alle ore 12 del 6 gennaio, con spettacolo apripista degli sbandieratori e colonna sonora del campanone.